Ciao e benvenuti alla mini-lezione di italiano numero 4 qui su orangotangjapan.com Today I'm going to teach you how to introduce yourself. So, imagine you are in a bar or a restaurant and you meet someone, maybe a friend of a friend. You will say, ciao, piacere di conoscerti. Hi, nice to meet you. And then you will add your name. Mi chiamo Luisa. My name is Luisa. Or mi chiamo Paul. Mi chiamo Aruna. You can even shortly say, sono Luisa. I'm Luisa. Sono Paul. Sono Aruna. So, if you put all together would be, ciao, sono Luisa, piacere di conoscerti. And then you may want to add something about you. For example, where are you from or what you do. You can say, sono italiana. I'm Italian. Or, sono inglese. I'm English. Or, sono giapponese. And then you can say, what you do. You can be very specific. For example, saying, sono un dottore. I'm a doctor. Sono un avvocato. I'm a lawyer. Sono un insegnante. Sono un insegnante. I'm a teacher. Or you can say, more or less, where you work. Lavoro in un ufficio. I work in an office. Lavoro in un negozio. Lavoro per la pubblica amministrazione. I work for the public administration. Or even, ho una mia impresa. I run my own business. So, putting all together, your introducing would sound like this. Ciao, sono Aruna. Piacere di conoscerti. Sono giapponese e lavoro in un negozio. That's it for today. Hope you enjoyed. And I wait for you here in orangotangjapan.com Ciao, arrivederci!